Ho bisogno di stare solo. È il destino di Louise che vi angoscia, forse? Devo lavorare. I miei omaggi. Prego? I miei omaggi? Sì. I miei omaggi. Sì. Chi c'era con il re questa notte? Era Madame de Bresch. Viene spesso a Versailles. Il marito è musicista. Il re ha altre amanti? Madame, siete la favorita del re. Ma il re ama i cambiamenti. Lo attrae l'ignoto. Se sto per cadere in disgrazia, preferisco che me lo diciate subito. Scomparirò. Voi state per scoprire il lato oscuro del re. Dovete mantenere dignità e coraggio. E io sono condannata alla fedeltà, non è vero? Dovete essere al di sopra di ogni sospetto. La minima debolezza verrà riferita al re e oltremodo ingrandita dai vostri nemici. Grazie. Grazie. Grazie.